Sono stata criticata per la mia cover, quindi oggi ne creiamo un'altra. Nello scorso video dove ho disegnato questa cover, mi sono arrivati commenti del tipo non sai disegnare, sembri una bambina delle elementari. Prima cosa, che problema ci sarebbe? Cioè, potrò fare la cover che voglio, tanto è mia! Seconda cosa, vediamo se anche il disegno di oggi è da prima elementare. Ho deciso di rappresentare una sirena. Ta-da! Cover terminata. La vado ad inserire. Et voilà! Guardate che bellezza! Per tutti coloro che mi danno della bambina. Spero che ora possiate essere più contenti.